Cristian! Dai, facciamo un po' Vai, 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 vai! E tu? Aspetta, aspetta, il povero non ha finito ancora! Mamma mia! Sta arriva, sta arriva! È nato? Le dispiace se mandiamo un attimino i bimbi con Simonetto a prendere un gelato? Le dispiace un attimo? No! Se qualcuno ha deciso di arrivare alla mamma con i figli, non ci posso fare niente. Lei non gliela posso ridare, ma tutto il resto sì. Tutto quello che gli manca è pure quello che non ci hanno mai avuto. Cristian, cammina, su! Noi che volete pure sti due, fanno un tre per due. Oh, ma fa una prostituta! Ma che lasci tu fia una prostituta? Eh, scusa, ti faceva mai prima, adesso ho smesso. A me dai una bella palazzina in su. Solo per cominciare ti servono almeno una cinquantina di mila euro. Ce l'hai? Perché noi dobbiamo dormire la notte e lavorare 24 ore su 24 a nero? Noi sindacati non ci interessa niente. Lo hanno fatto le ruote! Ma che stanno a fare? Ma fammi il favore! Perché bisogna rispettare i debiti di consiglia! Polizia! 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 Siamo sempre qua.